Buon pomeriggio, questo è il TGR Marche e benvenuti. Più di 100 pensionati provenienti da tutte le Marche hanno partecipato ad Ancona all'assemblea organizzata da CGL e Cisle Will di categoria insieme per presentare proposte per nuove politiche regionali per la non autosufficienza. Roberta Balzotti. Sono oltre 368 mila gli abitanti delle Marche con più di 64 anni che ne fanno così una delle regioni con il più alto tasso di invecchiamento. Le persone non autosufficienti sono stimabili tra 51 mila e 68 mila e 500 con un impatto notevole sulla gestione della quotidianità e dell'economia delle loro famiglie. Soltanto meno del 30% infatti rientra nel circuito dei servizi pubblici mentre per più del 70% le spese per cure a lungo termine, assistenza e a carico dei congiunti. Sono numeri questi forniti durante l'assemblea organizzata da CGL, Cisle, Will e pensionati che propone di costituire un fondo strutturale regionale per le non autosufficienze. Questo fondo deve essere destinato per l'assistenza domiciliare, per il SAD e per l'assegno di cura per i non autosufficienti. E' la famiglia che si fa carico del non autosufficiente a casa. Quindi se pensiamo che ci sono più di 12 mila abitanti nella nostra regione Marche quindi questo è un dato che ci permette di monitorare in maniera molto attenta la situazione delle non autosufficienti. Il costo mensile di un abadante è stato spiegato e di circa 1500 euro. Inoltre sono troppo pochi i posti convenzionati nelle residenze protette per anziani. I pensionati CGL e Cisle Wille ne chiedono almeno mille in più e si rivolgono al governo della regione perché riapre un confronto e stesso anche territori che coinvolga istituzioni e forze sociali.